Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio il divano, il divano, il divano Hello, benvenuti nella mia casa, estiva, ciao raga sono Gianmarco, come va? Tutto bene? Volevo fare un tour, perché ogni volta che cambiamo casa, ogni volta che passo un po' di tempo in una casa nuova, faccio fare un piccolo tour per gli abbonati, però, raga, ormai cinque giorni che siamo qui, letteralmente al burdel, letteralmente in delirio, ho voluto anche provare a mettere in ordine, credetemi è l'ordine più grande che potessi fare, cioè Simone che sta tenendo la telecamera e sopra poi le debbi che stanno facendo un rituale, così, alle tre del pomeriggio, e io nel frattempo non sapevo più a farlo, ho detto, senti Simo, tiro poi questa telecamera e facciamo sto home tour, sta arrivando secondo me una sventulata che metà basta, perché, raga, abbiamo il tempo che ora c'è sole, però adesso ci è arrivata sta sventulata, vabbè, ma è anche un po' piacevole, è anche un po' piacevole, no, adesso il tempo è bello, è tipo sta sventulata che mi è arrivata così un attimo una zaffè che mi ha fatto un attimo di panico, questa è la nostra piscina dove, raga, ho fatto la sirena, non so se ve lo ricordate, e alla mattina mi sveglio e faccio 80 bracciate avanti, 80 indietro, 80 laterali, 80 dall'altro lato, qui abbiamo un salottino megagalattico e il forno, dove fanno a finire i miei haters, lì dentro, cotti, cotti e mangiati, ma andiamo nel mio regno, la cucina, la cucina meravigliosa che ho deciso di utilizzare praticamente mai, perché stiamo andando sempre a mangiare fuori, diciamo che ci fidiamo più dei ristoratori che della cucina di Gianni, assolutamente, ma non so se andiamo a mangiare fuori che sta arrivando sta roba chi è, questa qua è la cucina, bella, pulita, intonsa, se vedete questo è un manicaretto che ho preparato, ma cos'è sta roba chi lì? La crozzata, davvero? Che bello, dopo ce la maniamo, qua ci sono le mie piastre e qua ovviamente dopo aver cucinato servo le mie prelibatezze, e ovviamente io non mangio mai, ma osservano i miei commensali da questa parte qui, che si avvelenano, che restano secchi, se non restiamo noi secchi per il tempo che sta arrivando, porco zione! eh no 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 no, guardami a chiudere tutto! porca vaca raga, raga! porca vaca sta in modo temporale eh! una nota del cristo! ok, è un tornado un tornado un tornado! guarda 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 guarda! guarda 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 che roba! Guarda che roba! Porca miseria, non ho mai visto una roba così! Sembra... Sembra in mezzo al tornado! Sembra in Michigan! Guarda, 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 guarda! Oh, santo cielo! Siamo nel cuore del ciclone? E quando mollerà sì! E poi dovrebbe di nuovo riprendere! In che senso? Se è un ciclone, ti passa nel buco, non c'è più... C'è tutto calmo e poi riparte! Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! No, beh ragazzi, comunque un tornado si suona! Eh sì, ragazzi! Oh mio Dio! Il divano! Il divano! Il divano! Il divano! Il divano! Il divano sta andando via! Il divano sta andando via! Il divano sta andando via! Carlo! Dov'è andatelo per l'Oder? Dieni questi, questi sono sulle macchine! Come sulle macchine? Sto male! No! È in piscina, è in piscina! È affondato in piscina! Ma sei fuori di testa! Simone! Lascialo lì! Chi se ne frega! Chi se ne frega! No! 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 No raga! Sto malissimo! Sto malissimo! Porca! Mi sono da giù o dai parti? Dio santo! Dove che sto male? Ma mi ha lavato! Ma guarda in che stato! Vabbè loro si sentono a casa, proprio tipo Venezia! C'è un lago! E per favore! Mi asciuga la mano sopra! Sopra sì! Porca vacca! Siamo salvi? Mi sono cagata addosso! No però no! Allora! Io voglio già subito dire no! Non è come sempre! Non è come sempre! Voglio discorparmi! Paolo io ho pensato di morire! Ma tu sai che la mia camera è distrutta? Adesso non mi dà la colpa! Ho visto il video! Ma che è l'apocalisse! Secondo me è stata una coincidenza! Ma quelle coincidenze che mettono nei brivoli! Ma coincidenze che accadono una volta nella vita! Ma tu non hai idea! Ma Gian! Ma perché tu non sai cosa ci ha risposto a me! Noi abbiamo esatto! Eh no! Infatti per quello che ho detto accendo la telecamera! Simo accendila! E mi dite che cacchio è successo! Noi iniziamo questa evocazione a Calypso! Ok! Esattamente come c'è scritto online! Accendiamo la candela nell'acqua e tutto! E iniziamo a fare domande! Se sarà una buona o una cattiva giornata! Perché Calypso? Lei è la protettrice dei marinai! Lei governa il mare! Ok! Ok! Quindi tutti i marinai e anche i pirati! Che sai che io vengo matta! Si! Si! Riferivano a lei per chiedere una buona navigazione! Un buon viaggio! Per tenersela buona! Per tenersela buona! E il rituale consiste in accendere una candela? Accendere una candela! All'interno di un... Noi l'abbiamo messa in un piattino! Ma all'epoca è molto antico come rituale! All'epoca lo mettevano dentro una bacinella o un contenitore che avesse dell'acqua! Acqua del mare! Acqua del mare! E noi è quello che l'abbiamo presa stamattina! Ok! Metti dentro questa candela e in teoria... Calypso! Ti riferisci a lei! Arrivi sì! Loro facevano domande! Pensi che io ho scoperto che probabilmente per comunicare mettevano un bicchiere sul pavimento della nave! Poi aspettavano la prima onda! Da una parte il sì e dalla parte il no! E faceva domande così! Sì o no! Morto una rudimentale Charlie Charlie Challenge! Sì! Esatto! E a me queste cose mi gasano tantissimo! Quindi voi avete fatto questa cosa! Abbiamo fatto questa cosa! E finché questa candela rimane accesa Calypso è pacifica! Dicono che se la candela si dovesse spegnere è meglio non mettersi male! Perché questa era una credenza! Ok! Popolare! Esatto! E io Cesarema comunque la prima cosa come andrà male mi ha detto! Male ha risposto! Male! Ma sto male anche io! Ci sembrava molto arrabbiata! Molto! Poi quando ha detto incominciare! Dopo poco un tuono! Ma che tuono! Raga ci siamo cagati addosso perché quella porta l'ha sbattuto per il colpo di vento! Io posso sentire solo te urlare! Perché sto un attimo un uragano è arrivato! No ma è arrivato un uragano! Non commento! Ma era un uragano! Beh io ho filmato un divano! Da comunque! 50 kg spostano! Ma che c'è? Sembrati vedere sempre quelle scene dei film! Sì! Dove è proprio il caos! Esatto! Esatto! Eh! E allora tu dici coincidenza! Bravo! Bravo! Cioè io capisci che se fossi stato un marinaio ti dico! Ah bello! Cavolo! Cioè non mi metto! E la candela comunque si è spende! Si si è spende! Nooo! E io non so se è un vento! Però la finestra era chiudo la vostra! Era a base stas! Ah ok! Eh la mia era bella spalacchina! Ma ma tu l'abbiamo vista! E si spalacchina! Il nostro no! Raga abbiamo vissuto l'esperienza di essere in una barca! A me sembra di essere in barca! E una delle ultime parole è anche stata no! Nave! Nave! Cioè raga io ve lo giuro! Ok! Non ho parlato! Incominciare! Incominciare! Non abbiamo parlato con Calypso! Dai non ci posso credere! Va bene! E' una coincidenza! Però che coincidenza! E' una coincidenza che raga vi giuro! Magari uno spirito molto potente che ha voluto... No lo so! Adesso no il meteo! No dai! Vabbè credo tante robe ma che mi cambi il meteo con la Calypso! Io sono salito con il sole pieno! Adesso i temporali arrivano! Si siamo saliti con il sole pieno! Ma qua era questo! Io mi aspettavo ancora i furgoni, le mucche! Si! Che volassero dalle finestre! Beh! E l'ombrellone che è partito via! E' finito in piscina! Io non so! E' finito proprio! Every night! E poi è tornato bel tempo! Esatto! Così il tempo proprio di... Ma poi lui ha mollato la videocamera! Ha smesso di registrare! Si! E quindi abbiamo tutti... Io ho video brutti eh! Cioè io con c'è nulla! Io l'ho lasciata su! La mia videocamera l'ho lasciata su! Perché è successo a me tanto velocemente! Esatto! Quattro minuti sarà durata sta roba! Male urla! Mamma santa! Raga! Coincidenza o no! E' successo! E' successo! E' successo! Oh! Raga! Ehm... Ma facciamo che questo rituone lo evitiamo! Si si! La prima cosa che ho detto! Finchè è la presenza in casa! Va bene! Posso dirti? Ma si! Io pensavo di rifarlo domani che fossimo su una nave! Ma tu sei fuori! Bello! Poi si eh! Ah! Poi contento Simone soprattutto! No no! Perché lui... La nave... Every night in my dreams I see you! No 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 no! Prova! Ma ci vedi la? Oh! Nello male che non ti venuta in mente quando eravamo a fare il Game Master! Porca madre! Non aveva da crociare ruba il te! No! No no! Schettino! Eh si! Sono passati da 94 lunghi anni! Lo doi! Vabbè raga! Fate sapere giù nei commenti e datevi un'occhiata al video di Paul e Debbie perché c'è il rituale! E così vedete la coincidenza! Esatto! Sì! Guardate le domande che gli abbiamo fatto! È quello che a me mi fa impressione! Oh! Se non altro raga è venuto un video che vedevo di... Non pensava così! Vabbè ci vediamo al prossimo! Ciao! Calypso metti like!